la sorella ha detto sempre dei giochettini la volta era successo era un po' di più era un po' di più giusto però un po' di più tu vuoi spiegare così? ma no, ma fatto questa strada quest'anno va a andare pure non si possono anche più appellare già tanto, ti sento come la propria che mi ha minacciato Anna Mariana a volte vediamo noi quelli due lo puoi fare? lo puoi fare? no, non lo posso non fare ma ce lo sapeva l'altro anno perché già Piera gli ha detto vedo le porte non ce l'ho mai che se lo fa? non si è buttato in cazzo solo su tutte cose ah ma hai sentito? stavamo qui insieme ai rossi? si stamattina stamattina? ero 8 già si stiamo sul gruppo hanno cacciolita di mente adesso che hanno preso quanto dura questo di non notare ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.